Ancora non inizia l'attività della nuova giunta regionale e già c'è uno strappo duro con Gianluca Zelli di azione politica che si dimette anche da coordinatore ed è durissimo contro il neopresidente della regione Marco Marsilio non voglio avere più niente a che fare con lui. Uno strappo importante, questo nel centrodestra abruzzese a neanche un mese dal voto del 10 febbraio. Il coordinatore di azione politica ha detto su Marsilio gli abruzzesi impareranno a conoscerlo. Come hanno imparato a conoscere D'Alfonso e lo hanno rimandato a casa ha detto Zelli, gli abruzzesi molto presto impareranno a conoscere Marsilio come lo abbiamo conosciuto noi. Sono le parole di Zelli che è fondatore, ormai ex coordinatore perché si è dimesso regionale di azione politica movimento civico che alle elezioni regionali ha sostenuto proprio il centrodestra. In una conferenza stampa a Pescara ha avuto parole durissime per Marco Marsilio. Adesso a guidare azione politica sarà il commissario Angelo D'Ottavio. Non voglio avere più niente a che fare con Marsilio e con questo centrodestra ha detto Zelli aggiungendo che l'accordo programmatico fatto con Marsilio che prevedeva tra l'altro la rappresentanza di azione politica è stato disatteso e che l'incontro è stato un'imboscata perché già era tutto deciso. Avevamo chiesto una rappresentanza esterna nella giunta che potesse bilanciare l'elezione di un singolo consigliere così da equilibrare costa aree interne. Questo accordo è stato ribadito ha detto Zelli in campagna elettorale dallo stesso presidente Marsilio martedì 12 febbraio nella sede della mia azienda. Da quel giorno non l'ho più sentito. A garantire l'accordo programmatico su specifica richiesta di Marsilio Pierluigi Biondi e Angelo D'Ottavio. Ho rivisto Marsilio il giorno del passaggio di testimone con Lolli quando ci siamo confermati quello che ci eravamo detti. Poi siamo stati vittime di un'imboscata. L'accordo era già stato raggiunto da Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia. Marsilio ha deciso di chiudere la conversazione poi assegnando quattro assessori alla Lega uno a Forza Italia e uno a Fratelli d'Italia. La richiesta di spiegazione e tengo a precisare che tutti i partiti seduti al tavolo sulle minuti a conoscenza dell'accordo tra azione politica e Marsilio sono negli ultimi dieci giorni di campagna. Marsilio ha risposto che nelle altre regioni Fratelli d'Italia era stata penalizzata che in Abruzzo avrebbe potuto rivalersi rilanciando persino con il sottosegretario a Forza Italia. A quel punto, visto che la discussione si sarebbe spostata sull'assegnazione delle deleghe e non avendo azione politica parola ingiunta, ho deciso di andare via senza intenti polemici. Ne ho preso atto fino al momento in cui il corretto presidente ha telefonato al consigliere regionale Sant'Angelo per offrire direttamente a lui la vicepresidenza del Consiglio. Sant'Angelo ha fatto presente e racconta ancora a Zelli che la linea l'avrei dettata io in qualità di coordinatore del Movimento. Così ha ricevuto ormai a giochi fatti una chiamata e una proposta dal presidente che ho rifiutato. Non abbiamo bisogno di poltrone, non sono d'accordo neanche sull'ipotesi di allargamento della giunta, anche perché in questo momento è l'ultimo dei problemi. Ero sereno ieri e solo sereno oggi, conclude Zelli. Azione politica continua a esistere, ha ottenuto 20.000 preferenze e ho chiesto il sacrificio ad Angelo Dottavio di diventare commissario. Le liste civiche sono servite ancora una volta a prendere voti, ma il sistema dei partiti ritiene che non debbano avere voce o essere rappresentate. Grazie.